bravi raga avete spaccato avete veramente spaccato il palco grazie per i punti a Fantasarremo vi voglio bene buon proseguimento raga in vista del Fantasarremo dobbiamo pensare a che domande fare a San Giovanni e Daga che questa sera si esibiranno sul palco di Sanremo quindi qua vi lascio un box il primo per Aga quindi che cosa gli possiamo far fare per farci fare un sacco di puntine che ce l'abbiamo in squadra il secondo per San Giovanni ragazzi dai 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 spaccate il palco fatemi vincere anche a Fantasarremo grazie bravi raga avete spaccato avete veramente spaccato il palco grazie per i punti a Fantasarremo vi voglio bene buon proseguimento grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione